Antonio Lucio Vivaldi, più conosciuto come Antonio Vivaldi, nacque a Venezia il 4 marzo 1678 e morì a Vienna il 22 luglio 1741. È stato un compositore e violinista italiano, considerato tra i massimi esponenti del barocco musicale. Sacerdote, pur non potendo celebrare la messa per motivi di salute, era detto il prete rosso per il colore dei capelli. Fu uno dei violinisti più virtuosi del suo tempo e uno dei più grandi compositori di musica barocca. Considerato il più importante, influente e originale musicista italiano della sua epoca, Vivaldi contribuì significativamente allo sviluppo del concerto, soprattutto solistico, un genere iniziato da Giuseppe Torelli e della tecnica del violino e dell'orchestrazione. Non trascurò inoltre l'opera in musica e la sua opera compositiva vastissima comprende inoltre numerosi concerti, sonate e brani di musica sacra. Le sue opere influenzarono numerosi compositori del suo tempo, tra cui il genio massimo del barocco, Johann Sebastian Bach. Le sue composizioni più note sono i quattro concerti per violino conosciuti come le quattro stagioni, celebre esempio di musica a soggetto. Come per molti compositori barocchi, dopo la sua morte il suo nome e la sua musica caddero nell'oblio. Antonio Vivaldi fu battezzato in casa dalla sua levatrice, poiché era in pericolo di morte. Il padre, originario di Brescia, aveva intrapreso l'attività di barbiere e di violinista. La madre era figlia di un sarto di Pomarico, in provincia di Matera. Si sposarono nel 1676 ed ebbero in tutto dieci figli, di cui solo Antonio intraprese la carriera musicale. Il padre aveva probabilmente più passione per la musica che per il lavoro di barbiere. Infatti nel 1685 accettò l'ingaggio di notevole prestigio come violinista nella Basilica di San Marco, a quel tempo cappella privata del Doge, dove si celebrava solo in occasioni particolari. Insieme ai compositori Giovanni Legrenzi e Antonio Lotti, Giovanni Battista Vivaldi fondò nel 1687 il Sovvegno dei musicisti di Santa Sicilia, una confraternita dei musicisti veneziani e a questo impegno aggiunse nel 1689 quello di insegnante di violino all'ospedale dei Mendicanti. Quindi molto probabilmente Antonio Vivaldi imparò a suonare il violino dal padre, dimostrando precocemente grande talento, e fu presto ammesso a frequentare i musicisti della cappella del Doge. La carriera ecclesiastica del giovane Antonio invece ebbe inizio il 18 settembre 1693, quando raggiunse l'età minima della tonsura per mano del patriarca di Venezia. Il 4 aprile 1699 ebbe gli ordini minori del suddiaconato nella chiesa di San Giovanni in Oleo e il 18 settembre 1700 il diaconato. Il 23 marzo 1703 fu ordinato sacerdote, continuando però a vivere con la famiglia. Fu soprannominato il prete rosso, come ho già detto, per il colore della sua capigliatura, pur nascosta dalla parrucca di moda in quel periodo. Tuttavia dal 1704 smise di celebrare la messa per motivi di salute. Era probabilmente afflitto da una forma d'asma, chiamata allora strettezza di petto, di cui aveva presentato i sintomi sin dalla nascita e a causa della quale gli era impossibile condurre a compimento la funzione sacra senza assentarsi dall'altare.